Ancora droga a Campo Marzo. Nonostante i ripetuti blitz delle forze dell'ordine, nonostante il nuovo distaccamento della polizia locale, nonostante le telecamere di sicurezza, il degrado è incrostato, bisogna insistere per fare piazza pulita. L'ultima operazione inizia quando gli operatori della polizia locale, addetti alla videosorveglianza, notano uno scambio sospetto tra due uomini vicino al parco giochi dove le mamme portano i bambini in viale dell'ippodromo. Vengono attivate immediatamente le pattuglie antidegrado e il nucleo operativo speciale che fermano il tossicodipendente che ha comprato la droga. Droga che viene consegnata spontaneamente, si tratta di 0,34 grammi di cocaina che viene immediatamente sequestrata. A quel punto viene bloccato il pusher e denunciato per spaccio di stupefacenti, addosso a 86 euro in banconote monete che vengono sequestrati.